Buona giornata a tutti. Eccoci giunti al sabato che precede la sesta domenica di Pasqua e ci introduciamo alla parola del Signore di oggi con questa espressione che troveremo domani nel testo della prima lettera di San Pietro. È meglio soffrire operando il bene che facendo il male. Ecco noi come discepoli del Signore dovremmo essere sempre lontani dal male, dovremmo tenerci sempre lontani dal male, non fare il male anche se questo ci circonda e spesso dobbiamo riconoscerlo che è presente anche in noi. Ebbene il testo evangelico di Giovanni tratto dal capitolo quindicesimo, il capitolo della vite e dei tralci, ci dice al versetto diciottesimo «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me». Pensavo, perché il mondo possa arrivare ad odiarci e magari ad emarginarci o a tenerci lontani dai suoi progetti, è necessario che noi dobbiamo aver operato una scelta profonda, radicale, direi prioritaria di Cristo. Il mondo non ci odierà, il mondo non ci allontanerà. Se noi siamo discepoli del Signore in maniera slavata, in maniera approssimativa. Per cui l'odio, l'allontanamento, l'emarginazione, potremmo dire, possono essere il riscontro oggettivo di quanto e di come noi siamo discepoli del Signore e cioè siamo innamorati di Lui. Questo odio, questo allontanamento non deve preoccuparci, dice Gesù, perché noi non apparteniamo al mondo. E quindi questo deve metterci veramente in guardia e deve interrogarci continuamente e verificare continuamente se e quanto siamo autenticamente discepoli del Signore. Se molti sono gli applausi nella nostra vita per quello che operiamo, per quello che siamo, dobbiamo cominciare a interrogarci se per caso il nostro stile, non è molto simile al mondo o non siamo come il mondo ci vuole. Non siamo del mondo, non apparteniamo al mondo. Cristo ci ha scelti, Cristo ci ha scelti perché noi non apparteniamo al mondo, anche se in questo mondo dobbiamo essere cittadini a pieno titolo di questa realtà che ci vede oggi presenti. Direi che questa dimensione non sempre è presente in noi, quello di essere nel mondo ma di non appartenere al mondo. E questo deve comportare tutta una serie di scelte, di atteggiamenti, uno stile che ci distingua e che ci faccia veramente toccare con mano quanto siamo diversi dal mondo. I primi cristiani, i cristiani della prima ora, avevano molto chiaro tutto questo. C'è un testo molto bello a cui noi dovremmo anche fare riferimento ed è la lettera di Ogneto. Questo autore della Chiesa Antica scrive «I cristiani vivono nella carne, ma non secondo la carne. Trascorrono la loro vita sulla terra, ma la loro cittadinanza è quella del cielo. I cristiani sono nel mondo quello che è l'anima nel corpo. Abitano in questo mondo, ma non sono del mondo». Ecco, la giornata si apre. A noi l'impegno e l'invito a vivere questo giorno, a vivere quelle realtà che fanno parte del nostro stato di vita, ma di vivere tutto questo in quella specificità che ci fa essere discepoli del Signore. Ricordiamoci, ci dice Giovanni, un servo non è più grande del suo padrone e noi dovremmo avere a cuore di essere semplicemente solo e unicamente quello che Cristo è stato. E allora soffrire per operare il bene sempre e comunque, piuttosto che fare il male, è parte integrante del nostro essere discepoli del Signore. Buona giornata a tutti.